Tre colpi di arma da fuoco esplosi contro due abitazioni di via 24 maggio a Pratola Peligna e quanto hanno rinvenuti i carabinieri della compagnia di Sulmona questa notte intorno alle 2.30 nel quartiere della cittadina. Ad alertare il numero unico di emergenza, le 112, sarebbero stati alcuni residenti svegliati nel cuore della notte per aver avvertito il rumore degli spari. Dagli accertamenti tecnici eseguiti dal nucleo operativo dei carabinieri di Sulmona è emerso che si è trattato di una pistola che avrebbe esploso tre colpi di piombo puro, stando ai bossoli rivenuti i sequestrati. I proiettili avrebbero danneggiato il montante delle porte delle due abitazioni prese di mira fortunatamente non si registrano feriti. Sono in corso le indagini del caso per far luce sulla vicenda. Al momento non sembrerebbe che i soggetti legati alle due abitazioni sono collegati con gli ultimi casi di cronaca né avrebbero ricevuto ritorsioni nell'ultimo periodo. Persone per bene e tranquille come vengono definite dal quartiere e dalle forze dell'ordine. Per questo resta il giallo. I militari stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza collocate nella zona nella speranza di poter ricavare indizi utili ai fini dell'indagine. La notizia è traberata solo in tarda mattina lasciando sgomento perfino nel quartiere.